Ore di riflessione per il Taranto in vista di una sessione di calcio-mercato ormai prossima ad aprire i battenti. Il club rosso-blu sul fronte portiere dialoga con l'esperto Angelo Casadei, classe 88. L'ex Virtus e Biceglie ha da poco rinnovato con la Ternana che potrebbe anche girarlo in prestito e rosso-blu qualora nell'operazione rientrasse in un certo qual modo Ferrara, particolarmente attenzionato dagli Umbri. Ma non si esclude neppure una cessione a titolo definitivo con il diktat della sottoscrizione annuale da rispettare. La società infatti non vuole proporre biennali per di più a calciatori di esperienza. Per l'attacco sul fronte under passi in avanti per Giuseppe Lamonica nella scorsa stagione, autore di 14 reti con la casacca della Versa in serie D. Classe 2001, il giovane promettente centravanti e di proprietà della Juve Stabia. Se il trasferimento dovesse esservi sarebbe a titolo definitivo. Del club campano piace e tanto anche il difensore Marco Caldore, ma prima il Taranto deve liberarsi di alcuni contratti onerosi. In chiave uscite pressoché certo il non ritorno di Riccardi. La Triestina nella prossima stagione vuole puntare e forte sul difensore.